Vai, 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 Ico, pusha, pusha, subito, 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 vai, vai, via, Ico, è dentro il bagno. È tornò, è tornò, l'hai sentito, è salito? È il grau, 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 ora. Ma ci sono stati problemi oggi, regali, quello di server, di gioco. Io ci volevo, io ti l'ho più. Non lo so. No! Sono morto. Chi è scato lui, sicuro che era i log e non ha le rocce? Siii. Ma il capannone in mezzo quindi? Nonono, nonono. Ho la sopra. Davanti a me, corri davanti a me, corri davanti a me. Davanti a me. Droppato. Sono io. C'è l'arma, posso usare una sola arma Arriva un team, arriva un team C'è nessuno regà, non c'è nessuno Vi arriva un team Usa la mano Spostamento della zona sicura Mogheriamo un po' di pane questa mappa Prendo qua Dario, io sono di tutti Ma specialmente tuo Guardate gli questa clip Io voglio troppo bene a Dario Però io alle 10 vado su Tarkov Perché mi organizzo con gli altri Se quel maiale mi dice Guarda Giorgio, io da quest'ora ci sono Io mi organizzo Però Dario non vuole Dario non me lo fa questo C'è Dario infame Perché hai messo la su bolli Piè Se stiamo a taglià No Porro L'ho sentito con tutto l'altin Anzi Esplosso Ci sei sono più avanti Devo buttare lo zaino Ah sì L'ho sentito dentro l'orecchio con l'altin Mi hai fatto paura Ma poi questa arma sembra un'arma Entrata principale Non è possibile Come mi ha droppato Ma mi ha desincato Come mi ha droppato Lui non mi vedeva Ma tu un po' di via L'hai preso da fuori No Non è entrato Comunque ve lo consiglio a tutti Di leggere Jojo Perché è veramente bello I disegni sono spettacolari Il problema è che è difficilissimo A trovare Jojo da leggere Io lo stavo leggendo in inglese Ma Manga Dex poi E collassa I server vanno Un giorno sì 18 no Quindi mo Trovare le scan Per me è un problema Io c'ho il problema Che voglio leggermi Tutto subito E non riesco ad aspettare È un mio grandissimo problema Ragazzi Che ho in generale Con le cose che leggo Mi dà veramente fastidio Aspettare Quindi mi leggo le scan Che non si dovrebbe fare Perché è da mani i goldi Quello Che posizionamento Nel cazzo Stesa dell'area Occhio in alto No, arriva da te Scarto Quanto sei scarso Rientro in azione Ho preso a cazzotti Ti ho preso Non so neanche sai Mamma mia Lascia lo zaino qua dentro Pagano scusami Quella è verso Ocean Quella è verso Ocean Sì Quella è rampa Ocean Sì Qui il picco Non puoi farlo Vedi la rampa Che sa Vedi la rampa Prima Rampa power No no Non ti caso Magari era lì Che stava cercando Pasello E te compri E ti ho incastrato Un petto De uno sterno Come pensa Di avermi tappato Il timo E me c'è Ah Ha paura Perché Niente Lui mi ha fatto Tutti e due Feriti Ditegli a Dario Che io fino alle 10 Sono sempre su Warzone È lui che non viene E mi piscia Tutto nelle tue mani Lombò Sei la maschera Uno fatto Troppati due Vai vai Ci sono io dentro Devo curare Mi spara il cecchino Da stazione Cecchino da stazione Oh mio dio Ho visto il proiettile Passarmi accanto Ho bisogno di cure Però Ti servono cure? Dobbiamo trovare delle cure Teleporto Teleporto Giorgio Abbiamo perso Giorgio Comunque In una crisi In una crisi Di risata Importante Non riesce più a smettere Quando ho detto Lì lo sto cerchilando Sparavo all'NPC Sì Mattia Stavi sparando all'NPC Perché non c'è Un litmarga Stavi sparare male Oddio È stato un fallimento Mai visto prima Mai visto prima Un fallimento del genere E nella vita Ho farito tante volte